Figlia mia. Io, il tuo Giovanni, sono venuto affinché il mio libro continui a essere scritto da te, figlia mia, da te. Il padre ti ha scelto. Così io, il tuo Giovanni, ti voglio confidare tutto. Figlia mia. L'angelo mi mostrò scenari tremendi e atroci, ma continuava a ripetermi sempre che i figli del tempo finale devono pregare molto. In modo che il peggio del peggio potesse essere evitato. Egli mi disse. Giovanni. Figlio mio. Scrivi ciò che io. L'angelo del padre. Adesso ti spiegherò. I figli del tempo finale soffriranno molto. Tutto questo è derivato ed è stato reso possibile dalla grande e protratta apostasia dell'umanità. Vedesti già molto smarrimento che i figli si causarono. Vedesti il loro vuoto interiore e vedesti come lo riempirono. Non con il Signore. Ma con cose fallaci. Vedesti tante perversioni. L'omicidio della vita innocente. E molto altro che ora qui non vorrei più ripetere. Ma vedesti anche che c'erano ancora figli in preghiera. Figli fedeli a Gesù. E vedesti quanto potente e capace di modificare le cose era la preghiera e la loro supplica. E come Dio. Il nostro Signore. Vegliava su di loro e non li lasciava mai soli. Vedesti che nessuno di questi figli andò perduto perché tutti furono elevati o verso il padre stesso. Cioè nel regno celeste o nel suo nuovo regno. La grande apostasia. L'autoglorificazione. L'egoismo. Dei figli del tempo finale permise al diavolo di guadagnare sempre più potere su di loro. Sulla terra e sul mondo in cui vivevano. Divenne sempre più influente e mise i suoi gregari in tutti i ruoli autorevoli. Così si assicurò di guadagnare il controllo su tutto e tutti. E alla fine, lo ebbe. I suoi gregari vennero premiati bene perché chi lo serviva fu pagato e ricompensato riccamente. La loro fama crebbe con ogni atrocità eseguita. Così sempre più dei suoi servi si catapultarono in una difficile posizione e si imbrigliavano, coinvolgevano, sempre più e non riuscivano più, se lo avessero voluto, a liberarsi da questi satanici lacci di cattura. Anche fra loro, i gregari, c'era grandissima sofferenza. Solo che erano stati loro a causarsela nonostante partecipassero ai giochi. Il ritirarsi, comunque, a quel punto non fu loro più permesso. Molti, che lo volevano fortemente, ebbero improvvisi e inaspettati arresti cardiaci, incidenti mortali di ogni tipo. Morirono a causa di, malattie. Ovunque però in realtà c'era lo zampino del principe dell'oscurità. Aveva inserito i suoi aguzzini in tutti gli ambiti del vostro ordine mondiale. Infine, entrò nella Santa Chiesa. La Chiesa di Gesù. Anche questo accadde già prima del tempo finale. Abilmente e astutamente non solo vi nascose i suoi aguzzini, ma ebbe anche in mano lo scettro sui figli che amavano Gesù. Passo dopo passo cambiò cose, che non avrebbero dovuto essere cambiate. La parola, la celebrazione della Messa, preghiere tolte, è una lista che si allunga sempre più. E il grande inganno e la grande finzione potettero avere successo grazie a questa sua, del diavolo, favolosa satanica mossa. Ingannare i figli del vero Signore, Gesù Cristo. In modo che tutti andassero perduti e non trovassero l'eternità del Signore. Qui Dio Padre ora mi spiega. È qui che si trovano i figli della Terra. Voi, al momento, ora. È per questo, che tu devi rendere noto il libro, che ti mostro e spiego. Appena alla fine dei tempi, figlio mio. Se questo avvenisse prima, i figli del tempo finale, non capirebbero che sono i figli del tempo finale. Questo mi disse il Santo Angelo, figlia mia. Io non riuscivo più a comprendere il mondo. Ero convinto che con il grande atto d'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Il mondo fosse divenuto migliore e ora l'angelo mi mostrava tutto questo e me lo spiegava. Quando, mi chiesi, ci sarebbe stato questo tempo e come avrei potuto allora comunicarlo. Ma l'angelo mi disse parole rassicuranti e così io preservai tutto nel mio cuore. Non sapevo ancora ciò che l'angelo mi avrebbe chiesto alla fine della realizzazione del libretto. Figlia mia, comunica tutto questo ai figli della terra perché il tempo di cui l'angelo parlò è ora. Io, il tuo Giovanni, te ne prego, e io, il tuo Giovanni, tornerò per continuare a distruirti. Resta forte. Il tuo Giovanni. Apostolo e, prediletto, di Gesù. Amen. Grazie.